In Turchia si scava senza sosta nella speranza di trovare persone ancora vive sotto le macerie, ma a mano a mano che le ore e i giorni passano, le probabilità di ritrovare ancora qualcuno in vita sotto i cumuli si riducono a lumicino. Nelle città devastate dal terribile sisma si continua a cercare anche Angelo Zen, il sessantenne originario di Romano Dezzelino, di cui non si hanno più notizie da domenica sera. Questo è quello che rimane dell'hotel dove Zen alloggiava. Il fabbricato non ha retto la forza del sisma ed è crollato come un castello di carte. Sotto potrebbe esserci il tecnico orafo, oppure potrebbe essersi miracolosamente salvato ed essere ferito e ricoverato in qualche ospedale, incapace però di mettersi in contatto con i familiari. Anche le difficoltà nei collegamenti di certo non aiutano, mentre l'unità di crisi della Farnesina è in costante contatto con la Turchia. A Romano Dezzelino cresce l'angoscia dei parenti, mentre stasera la comunità di Maerne, paese dove Zen si era trasferito, ha organizzato un momento di preghiera, una veglia di speranza per il tecnico disperso. Presente anche il sindaco di Romano Dezzelino, Simone Bontorin, in rappresentanza della comunità di Fellette, dove vivono i figli di Angelo Zen, Mirko e Leonardo.